Benvenuti al mondo del caffè oggi proviamo il caffè Maya in questa miscela che è per macchina elettrica per macchina espresso da casa e la miscela si chiama Famiglia Bar è una miscela da tutti i giorni per famiglie però con delle caratteristiche simili a quello del caffè che si beve al bar adesso lo apriamo poi dopo lo assaggeremo adesso lo versiamo ecco il colore anche bel colore cioccolato la macchinatura è fine proprio come serve per la macchina espresso elettrica adesso lo proviamo si vede la crema, lo strato di crema bello spesso è dovuto alla maggiore percentuale di robusta la crema è comunque molto uniforme le bollicine sono molto sottili il profumo è altrettanto intenso quanto un'altra versione casa però si sente l'aroma del caffè arabica si sente il profumo dell'arabica più fruttato più floreale e quindi un caffè adatto sia per tutti i giorni ma comunque per chi si vuole gustare anche qualcosa di più aromatizzato qualcosa di più aromatico con contenuto maggiore di arabica caffè la bar famiglia di Caffè Maya dal mondo del caffè per oggi è tutto come tutto ciao se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete mi piace potete al link qua sopra in alto o a destra se volete andare direttamente al negozio e fare il vostro acquisto ciao